Quelli che erano pronti ieri hanno deciso ancora una volta di non decidere. La discussione sul salario minimo si farà a settembre, molto più probabilmente a ottobre, alla faccia di tre milioni e mezzo di lavoratori poveri che si somano a quelli che il lavoro nemmeno ce l'hanno. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei giorni scorsi aveva proposto un dialogo con le opposizioni. Del resto, essere dialogante è da sempre la sua qualità universalmente riconosciuta. Per costruire il dialogo hanno pensato bene nel frattempo di proporre un emendamento che avrebbe mandato tutto all'aria. Sono fatti così dalle parti del governo. Considerano le martellate una normale dialettica politica. A settembre, quindi, a Giorgia Meloni, che vorrebbe apparire decisionista, tocca sbrogliare il nodo sul fondo salva stati. Altro tema su cui si è votato per votare dopo le vacanze. Intanto l'Italia è già l'unica a non avere dato il via libera in Unione Europea. Sul tavolo c'è anche il MES che, comunque vada, dimostrerà che qualcuno nella maggioranza ha detto una bugia, un capolavoro. Ci sarà anche la riforma sulla giustizia, su cui Lega e Fratelli d'Italia se le danno di santa ragione. Ci sarà il decreto Calderoli, quello sull'autonomia differenziata, che Salvini vuole come scalpo da offrire ai suoi elettori per le elezioni europee. Per ora, l'unica grande riforma del governo è avere aumentato la povertà. Però, a settembre, potrebbero provare a convincerci che ormai se ne parla dopo Natale, all'anno nuovo, finché dura. Buone vacanze, intanto.